Buongiorno e ben ritrovati negli studi di Ippocrate, la medicina come professione, una rubrica dedicata alla vostra salute, al vostro benessere e a tanto altro. Oggi ci occupiamo di inositoli, sono trascorsi 20 anni da quando i medici hanno cominciato ad utilizzare questa molecola per alcuni pazienti, sia donne che uomini, affetti da patologie endocrinometaboliche. Ed è proprio per parlare di questo argomento che alla fine del mese di novembre i massimi esperti mondiali si sono riuniti a Roma in una conferenza, in un congresso organizzato dalle GOI, una società scientifica nata proprio per incrementare e sostenere la ricerca scientifica in quest'ambito. Ma che cosa sono gli inositoli e a che cosa servono? Lo scopriamo nel servizio. Sono trascorsi più di 20 anni da quando per la prima volta i ginecologi di tutto il mondo hanno cominciato a prescrivere gli inositoli ai propri pazienti, rivoluzionando il trattamento delle patologie endocrinometaboliche sia femminili che maschili. In questi decenni sono molti gli studiosi che hanno deciso di dedicarsi alla ricerca in questo ambito, fino a fondare qualche anno fa la società scientifica EGOI, acronimo di The Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research, che riunisce 44 tra i massimi esperti al mondo sull'inositolo provenienti da 16 diversi paesi. Questi stessi specialisti hanno organizzato un importante evento il 25 novembre presso l'Università Unica Millus di Roma. Nel corso dell'appuntamento scientifico sono stati presentati gli aggiornamenti sull'uso clinico degli inositoli e in particolare del fratello gemello del mio inositolo, il dichiro inositolo. Ma per comprendere le potenzialità del dichiro inositolo è necessario andare con ordine, partendo dal suo già più noto gemello, l'inositolo. Di recente è uscito il primo position paper pubblicato sull'International Journal of Molecular Science, in cui è stato dato ampio risalto alle evidenze cliniche sull'uso degli inositoli nell'ambito della riproduzione femminile e maschile, alla prevenzione del diabete gestazionale e dei difetti del tubo neurale. Il dichiro inositolo, DCI, pur essendo una molecola quasi gemella del mio inositolo, ha un comportamento completamente diverso. È in grado di riequilibrare il testosterone sia nel genere maschile che femminile, utile per le donne che soffrono di iperplasia endometriale, endometriosi, adenomiosi e poliposi endometriale. È un'arma in più per migliorare la qualità di vita nella delicata fase di transizione da età fertile a menopausale e per la gestione di quelle manifestazioni ginecologiche frequenti in questo stesso periodo della vita della donna. Insomma, lo abbiamo sentito. L'Egoi è una società scientifica che raccoglie i professori, i professionisti che si dedicano alla ricerca in questo ambito di tutto il mondo e si sono riuniti proprio nelle scorse settimane a Roma. E allora ci colleghiamo online con un membro dell'Egoi, il professore Vittorio Unfer, professore di ginecologia ostetricia presso l'Università Unica Millus di Roma. Benvenuto, professor Unfer. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a lei. Allora, professore, abbiamo parlato un po' nel servizio che abbiamo ascoltato insieme degli inositoli, ma andiamo subito al dunque, perché durante questo appuntamento a Roma che ha riunito lei e tanti altri esperti si è parlato di una grossa novità, di questo fratello gemello del mionositolo. Ci vuole raccontare qualcosa in più? Che cos'è soprattutto? Che cosa dicono le ultime evidenze scientifiche? Sì, ci siamo riuniti a Roma recentemente proprio per confrontare le nostre ricerche. Sono diversi anni che abbiamo concentrato i nostri studi su questa molecola. Diceva bene prima, fratello del mio nocitolo, si chiama dichiro nocitolo, e abbiamo scoperto molte cose. La cosa più importante è che ha la capacità di aumentare gli ormoni maschili sia nell'uomo che nella donna. Allora, questo è estremamente utile in tutte quelle condizioni in cui ci troviamo di fronte o a una carenza degli ormoni maschili, una carenza del testosterone, come per esempio negli uomini over 50, o nelle donne nella fase premestruale, scusate, premeno rosale, in cui ci troviamo in una fase di iperestrogenismo relativo e questo iperestrogenismo può causare l'iperprasia dell'endometrio, può causare i polpi dell'endometrio, fino a patologie più importanti come l'adenocarcinoma dell'endometrio. Allora, in questa fase di equilibrare con una molecola naturale come il dichiro nocitolo, il livello di ormoni maschili per avere quindi un giusto rapporto tra gli ormoni femminili e quelli maschili, consente di passare questo periodo di transazione con estrema tranquillità, evitando molte delle patologie che sono con frequenza, si osseguono in questo periodo. Queste molecole, professor Unfer, come possono essere assunti? Ci sono degli integratori che il medico può prescrivere? Sì, purtroppo l'alimentazione non è più sufficiente. In realtà sono molecole naturali che si ritrovano in molti alimenti, dal melone alla carne alle noci brasiliane, ma l'industrializzazione degli alimenti ne ha impoverite di molte sostanze, tra cui appunto il gruppo della famiglia dei nocitoli, quindi quando abbiamo necessità di integrare dobbiamo fare ricorso a degli integratori, ci sono diversi sul mercato, ma alle giuste dosi, alla giusta posologia, perché come sempre dico non è vero che gli integratori se non fanno bene non fanno male. Gli integratori hanno una loro reazione, hanno un loro potenziale terapeutico, ma al tempo stesso possono avere effetti collaterali, quindi vanno controllati e consigliati dalla classe medica. Assolutamente, questo è un messaggio importante perché a volte quando si parla di integratori o comunque anche di farmaci che possono essere considerati da banco, le persone pensano di poter un po' lasciarsi andare alla cosiddetta automedicina e quindi autoprescriversi queste sostanze, ma in realtà invece vanno sempre prescritte necessariamente dagli specialisti e soprattutto, come diceva lei, professor Unfer, nelle giuste dosi. Parlando invece del mio neusuitolo, le ricerche su questa molecola sono precedenti a quelle di cui stiamo parlando. Ecco, che cosa ci dicono le evidenze scientifiche? Ci sono delle ricerche, degli articoli, degli studi che sono stati pubblicati anche di recente e che hanno fatto il giro del mondo, che attestano proprio la validità di questa molecola per alcune patologie, quali? Il mio neusuitolo è una molecola studiata da oltre 20 anni e di questa molecola sappiamo moltissimo, è entrata ormai nella pratica clinica con l'indicazione della patologia policistosi ovanica. Questa è una patologia endocrina metabolica con alterazioni della produzione di alcuni ormoni dal punto di vista delle ovaglie, caratterizzata da anovulazione cronica, quindi sono pazienti che non riescono ad ovulare e di conseguenza la causa più frequente di infertilità femminile. Le manifestazioni metaboliche sono caratterizzate da un'alterazione del metabolismo degli zuccheri, sono pazienti che tendono col passare degli anni a diventare diabetiche, parliamo del diabete tipo 2 con tutte le conseguenze. Una maggiore incidenza di patologie cardiovascolari e una maggiore incidenza di ipertensione arteriosa ed è tutta un iter sintomatologico che può essere evitato con l'utilizzo del mio neusitolo che va a suppluire sia l'aspetto metabolico, quindi a risolvere il problema metabolico, sia il problema ormonale in oltre il 70% delle pazienti trattate. Una percentuale, diciamo 7 su 10, che è davvero importante. Abbiamo parlato della ricerca più recente, ci ha detto che questa ricerca si è avviata ben due decenni fa. È partita da dove? Dall'Italia, da esperti italiani oppure al di là, diciamo, del nostro paese? Guardi, è partita come sempre da tanta curiosità dei ricercatori. La voglia di capire, di comprendere, è partita da un caro amico americano, il professor Nestler, che pubblicò su una rivista estremamente prestigiosa, come il dichiro inositolo, quindi la molecola di cui parlavamo prima, fosse efficace nel trattamento della policiscoes ovarica. Ora, questo studio è stato poi sconfermato da lui stesso qualche anno dopo, vedendo che aumentando il dosaggio di questa molecola si aveva invece un blocco di uluburazione e quindi abbiamo impiegato molti anni per capire le cause e identificare il ruolo del mio inositolo. Il gruppo italiano della ricerca, da me guidato, parliamo già di vent'anni fa, ha iniziato a pensare a questa nuova molecola, al mio inositolo e, visti gli effetti clinici, abbiamo cercato di comprendere i meccanismi d'azione. È stata una ricerca lunga, faticosa e impegnativa, sia in termini economici che in termini di tempo, ma i risultati ci hanno dato grande soddisfazione e anche riconoscimenti internazionali e abbiamo potuto pubblicare su riviste estremamente prestigiose, facendo dei trials che hanno coinvolto tanti centri internazionali e oggi il mio inositolo, come dicevo prima, è entrato nella pratica clinica in oltre 70 paesi al mondo, proprio come primo approccio al trattamento per la policiscoes ovarica. Professore Unfer, lei giustamente da ginecologo si ha elencato alcune patologie che afferiscono la sfera riproduttiva sia dell'uomo che della donna, ma questa famiglia di molecole, degli inositoli, in realtà è impiegata anche in altri ambiti, in altre specialità mediche. Quali? Sì, vede, il mio inositolo è una molecola primordiale, ovvero è presente nel nostro pianeta prima dell'origine della vita e quindi non ci deve stupire se il mio inositolo fa parte ed è costituente di molte strutture. Prima di tutto la struttura del citoscheletro cellulare, quindi ciò che forma la cellula è formato anche da fosfati di il mio inositolo e questo è estremamente importante. Ed essendo secondo messaggero di alcuni ormoni, ovvero alcuni ormoni riescono a esprimere il loro messaggio solo se nella cellula c'è una giusta quantità di mio inositolo, come appunto l'ormone follicono stimolante. Questo ci spiega la carenza del mio inositolo come può portare ad anovulazione cronica, ma anche il secondo messaggero del TSH. Ecco, il TSH è l'ormone tirio stimolante, cioè è l'ormone che stimola l'attività della tiroide. Quando siamo carenti di mio inositolo anche la tiroide funziona male e allora non è strano trovare che oltre il 50% delle pazienti effetti da policistosi ovarica siano anche ipotiroidee e che entrambe le situazioni possono essere aiutate, risolte e curate, chiaramente parliamo dell'ipotiroidismo subclinico, cioè per quei valori del TSH compresi tra 4 e 10 e non quando ormai la tiroide non è più in grado di produrre la giusta quantità di ormoni tiroidei per cui l'ipotiroidismo diviene clinico, allora in quel caso è necessaria chiaramente una terapia sostitutiva con l'evotiroxina. Chiaramente anche nell'uomo le citava, ecco, negli spermatozoi il mio inositolo è fondamentale, basti pensare che la concentrazione nei testicoli di mio inositolo è più alta della concentrazione del sangue, il che vuol dire che il mio inositolo che facevamo diversi anni fa in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Stringolo, in quell'occasione mettemmo insieme a una cultura di spermatozoi aggiungemmo del mio inositolo e meraviglia perché, esatto, chi fa ricerca si meraviglia quando vede alcuni risultati guardando al microscopio elettronico di spermatozoi che prima erano immobili, dopo appena 30 minuti iniziano a riprendere l'attività motoria e lo spermatozoi, come sapete, è una cellula che ha necessità di movimento, perché gli spermatozoi che vengono rilasciati in vagina hanno il compito di dover raggiungere l'ovocita per essere fertilizzato, ma l'ovocita si trova nelle tube, quindi lo spermatozoi è caratterizzato dalla propria capacità di movimento grazie a un flagello. Questa capacità di movimento è in gran parte dovuta proprio al mio inositolo e alla sua capacità di agire proprio sui mitocondri dello spermatozoi, garantendole la capacità motoria. Insomma, davvero tanti, professore Unfer, gli ambiti di applicazione. Ci restano davvero 30 secondi. Ci vuole accennare a che cosa punta la ricerca scientifica del vostro board per i prossimi mesi, per il prossimo anno? Sì, siamo orgogliosi di dire che siamo riusciti a dare tre borse di studio a tre ricercatori, tre ricercatori europei e questo ci consente di avere dei nuovi dati prossimamente e dei nuovi risultati. Siamo ancora una volta molto concentrati sulla potenzialità del dipironositolo perché scoperti i meccanismi in azione oggi possiamo iniziare a pensare a un razionale terapeutico per tutte quelle patologie, come dicevo prima, caratterizzate da ipoestrogenismo e sono di veramente tante. Allora poi ci terrà aggiornati. Allora la ringrazio, professor Unfer, per essere stato con noi quest'oggi. Grazie, grazie ancora a voi per l'invito. Ippocrate, la medicina come professione finisce qui, ma vi ricordo che torna puntuale tutti i giorni sempre alle 13.30 su questa rete. Intanto vi auguro una buona giornata. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.